L'Agenzia regionale per l'ambiente di Puglia sta conducendo un'indagine sulla concentrazione degli inquinanti propagati nell'aria e sul suolo causati dal disastroso incendio del 21 settembre scorso divampato nel deposito di via Barletta incontrata a Monachelle. La fase attuale è molto delicata, per questo l'ARPA invita tutti i cittadini a prestare attenzione al consumo di prodotti ortofrutticoli che potrebbero rientrare nella zona toccata dall'incendio. Sul disastroso incendio divampato nel deposito di via Barletta incontrata a Monachelle ad Andria dalle 19 del 21 settembre alle 8 del mattino successivo, l'ARPA Puglia sta conducendo un'indagine sulla concentrazione degli inquinanti propagati nell'aria e sul suolo ed è per questo che invita tutti i cittadini a prestare attenzione al consumo di prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'aria ritenuta di prima ricaduta delle emissioni prodotte dall'incendio. Le ricerche dell'ARPA definiranno le concentrazioni sui campioni raccolti dai campionatori mobili posizionati nelle aree adiacenti al capanone industriale gestito dalla società Moda Group e Family Company. I controlli saranno estesi anche tramite le stazioni fisse di monitoraggio dell'aria e mediante campionamenti dei terreni circostanti che potrebbero registrare la presenza di sostanze nocive. Nell'immediatezza dell'evento, spiega Vito Bruno, direttore generale di ARPA Puglia, una squadra di tecnici dell'ARPA si è recata sul posto per svolgere rilievi e verifiche. È stato installato in direzione dell'abitato di Andria un primo campionatore per il controllo della qualità dell'aria, rimasto in funzione 24 ore. Il filtro contenuto nel dispositivo raccoglierà eventuali inquinanti trasportati dai fumi dell'incendio che si sono innalzati fino a 40-50 metri dal suolo. Poi si procederà alle analisi che saranno eseguite presso il polo microinquinanti di ARPA Puglia di Taranto. Sarà effettuato il controllo di microinquinanti organici come le diossine, ma l'esito potrà essere noto soltanto tra qualche giorno perché si tratta di indagini complesse. Un secondo campionatore è stato installato nell'azienda agricola federiciana in direzione Barletta. L'ARPA ha elaborato uno studio modellistico per individuare l'area di ricaduta sul suolo dei fumi intorno al sito coinvolto. Sono stati definiti i punti delle aree da campionare per verificare le concentrazioni di inquinanti al suolo, in particolare sui suoli agricoli, dove gli stessi inquinanti potrebbero essere assorbiti dalle coltivazioni. Il 30 settembre prossimo il Dipartimento Provinciale di Barletta Andrea Trani dell'ARPA Puglia, d'intesa col comando di polizia del comune di Andrea, procederà al prelievo dei campioni di suolo nei punti indicati per sottoporli alle successive analisi. Il direttore generale dell'ARPA Puglia, Vito Bruno, invita tutti dunque a prestare particolare attenzione in questa delicata fase alle produzioni agricole rientranti nell'area ritenuta di prima ricaduta delle emissioni prodotte dall'incendio, valutando in via precauzionale l'inibizione del consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati in quella stessa area.